Sveglia, Zack! Zack e Miri sono amici da sempre. Perché ti fai sempre in quattro per quella ragazza, sapendo che non te la darà mai? Mi paga metà dell'affitto. Mi sveglia al mattino. Perché complicare le cose con il sesso? Tra un po' non avremo più un tetto sulla testa. Facciamo un porno. I più grandi amori... ...nascono... Promettiamoci che questo non cambierà niente tra noi, ok? ...dall'amicizia. Deve essere amore, giusto? Zack e Miri. Amore A. Primo sesso. Da giugno al cinema.